Gennaio 2019, anno nuovo, riprende il Bbook, la rassegna libri organizzata dal Davitondo con la collaborazione della libreria Raffaello e come media partner Radio W0 e ricomincia con Mariela Cuoccio. Ciao Mariela, buon anno. Buonasera a tutti, buon anno a tutti voi. Che è stata già nostra ospite in una diretta streaming dove abbiamo presentato in anteprima il suo libro per quanto riguardava questi sorsi di poesia. Allora Mariela, cominciato l'anno, stasera la presentazione ufficiale per quanto riguarda la città, perché questi sorsi di poesia? Perché la poesia non può essere letta come un romanzo e quindi in grandi quantità, la poesia va letta veramente a piccoli sorsi, è come sorseggiare una tazza di tè, quindi piano piano, lentamente per entrare proprio nello spirito della poesia, per farsi cogliere un po' così dalla magia della poesia. E quindi quando si legge una, due poesie, tre poesie massimo in un momento va benissimo, poi dopo si riprende in un altro momento, anche perché ci vuole anche un'atmosfera particolare. Ecco, non si può leggere dove c'è tanta gente, dove c'è confusione, bisogna raccogliersi, è quasi una sorta di preghiera, però in forma molto elegante. Come dici tu, un libro che bisogna leggere a piccoli sorsi. È vero, sì, sì. Senti, questa è una raccolta molto particolare perché ci sono tante sfaccettature nel libro. Sì, sì, è vero. Affronto tanti temi, ho raggruppato le poesie in diversi temi perché alcuni avevano appunto un filo conduttore comune e quindi l'ho diviso appunto in questi temi che possono essere appunto i bambini, il cibo, anche la malattia mentale. Purtroppo questo è un tema abbastanza difficile, abbastanza duro, però insomma ho voluto inserire anche questo tipo di un po' denuncia su quello che succede appunto a queste persone che non sono altro che appunto anime in cerca di amore. Senti, logicamente l'autore in ogni libro mette sempre una parte di se stesso. Le tue parti sono raccolte in tutto il libro o in delle zone particolari? Direi tutto. I miei libri di poesie sono altamente autobiografici, quindi anzi io scrivo solo dopo aver vissuto un'esperienza, aver visto qualcosa, perché appunto lascio sempre che quell'esperienza o quel qualcosa mi trasmetta appunto qualcosa interiormente. Poi io lo trasformo successivamente in parole, poesia e liriche appunto. Senti, questa sera lo presenti qui a Bitonto, però so che ci sono prossimi appuntamenti già. Sì, esatto. Allora, la settimana prossima c'è un'altra data a Bitonto, alla chiesa di San Leone e poi ci sarà a Foggia, a Bari, insomma ho diverse date un po' nella Puglia e in provincia di Bari. Noi ti seguiremo come al solito. Sì, grazie, io vi ringrazio, sono felice di essere qui nella mia città stasera, è sempre emozionante perché ritrovo amici e parenti che magari non mi hanno mai vista, mai sentita e mi scoprono sotto questa veste nuova di poetessa, di scrittrice. Grazie ancora. Grazie a voi.